e benvenuti in questo nuovissimo video, allora oggi siamo con le nuovissime armature di Minecraft siamo nel nuovissimo snapshot, infatti lo possiamo anche vedere dalle nuove skin e adesso vedremo tutte le nuove armature, questa cosa era un importante cambiamento perchè sono sempre veramente importanti le armature, adesso ancora di più allora ragazzi, qua ci sono la maggior parte dell'armatura, qua guardate abbiamo questa cosa che non serve a niente adesso invece è molto importante, allora andremo a prendere questa armatura ok, e poi ci prendiamo l'aneterite con il diamante, veramente c'è la cosa più forte che si può creare e poi ci mettiamo un po' di ametista ragazzi, tante cose non sono mai servite niente e la cosa più importante che sto scordando, i template, ci mettiamo questo template perchè è bello ok, allora ci mettiamo il template, eccolo qua, ci mettiamo la corazza e ce ne mettiamo questo, ragazzi guardate che bella l'armatura cioè praticamente è l'armatura più forte, quanto è più forte del gioco, anzi si poi allora ci andiamo, andiamo a mettere a posto un bravo Mino, guardate com'è bella l'armatura questa è l'armatura, questa la andiamo a buttare poi, allora ragazzi, prendiamo tutti questi template cos'è, dopo li prendiamo dalla creativa ok, ragazzi andiamo a mettere questo ci prendiamo questo ok, che ci mettiamo mettiamo, no, mettiamo l'ametista ok, guarda, ragazzi, sembra un'artina ok, che bella ok, lo andiamo a mettere qua la striccetta là sotto guardate questo, ok andiamo a buttare sotto qualsiasi armature, povera armature poi vediamo ci mettiamo anche queste, ragazzi queste armature saranno veramente bellissime perchè, secondo me l'oro veramente diventano bellissime infatti è un bello l'ora di provare con l'oro proviamo di nuovo con questo bello ok ragazzi, poi ci prendiamo proviamo con questo ok allora ecco cominciamoci i piedini ragazzi, guardate che bello se qua c'è completata l'armatura praticamente la più forte del gioco ok ok allora dobbiamo mettere questo poi ci mancano ci mancano ci mancano ci mancano il materiale ci mettiamo un po' di materiale un'armatura tecnologica ok ok ci mettiamo questo qua ci ok ci mancano con il materiale non lo metto non lo metto più tecnologico guardate che bello sembra tipo una striscia per fare il kung fu non lo so vabbè allora ok che bella ragazzi adesso andiamo a provare con quest'altra figura d'oro e poi io vorrei trovare il più bel abbinamento che secondo me è l'oro che è l'oro? è un bel colore ci dobbiamo mettere il rame aspettate ci mettiamo questo guardate che bello sembra un marrone chiaro andiamo a indossare alluminide vediamo proviamo con questo ok e il ferro ok e ci mettiamo questo un cabello ok mettiamo anche questo se qua lo devo buttare perché è brutto ok ecco qua ok poi ragazzi queste armature non saranno sprecate ovviamente vabbè poi ci mettiamo la più atteso che è quella la ovviamente allora ci mettiamo prima di tutto questo no prima di tutto vediamo la creativa si chiama il template ok vediamo vorremmo utilizzare questo mi attira ok mettiamo questo il ribarmor trip che da l'armatura che servono i cristalli e i vingotti ok e adesso non si può fare giustamente proviamo con questo ok mi sembra che non è cambiato niente non vorrei dire questo questo qua non mi piace tanto poi questo qua non mi piace tanto poi questo qua l'avamo già provato mettiamo con questo no proviamo così una cosa no una cosa ok più o meno proviamo a mettere questo a vedere se cambia ah si cambia no non cambia niente aspettate ah ragazzi che bello guardate qua fa tipo la ipsilon diciamo invece qua fa quest'altra cosa a me mi piace tantissimo questo con questa specie di ipsilon ok e la facciamo indossare le indossiamo pure noi perchè ecco qua le altre cose le buttiamo povera armatura tanto dopo sarete rutilizzata ok allora vediamo sta facendo notte ok allora poi mettiamo un po proviamo a con i piedini ok mettiamo questo e quindi i piedini ok ragazzi scusate un attimo allora ecco qua allora ragazzi adesso vediamo andiamo con questo carino carino adesso ragazzi prendiamo qualche altro minerale proviamo con la redstone che ho detto ecco qua allora dietro i piedini no in mente cosa entra proviamo questo e questo poi viene questo a me sembra quasi che non cambia niente l'acqua poi ah l'ora non l'abbiamo molto considerata bello però è simile la cosa che succede con la c'è quasi più dentro non cambia solo il colore però su qua mi sono un poco più chiaro ci vediamo qui e non devo mettere il nostro carino mica qua ok adesso ragazzi manca solo l'ermetto ecco qua facciamo un bel ermetto di tartaruga ok che io sinceramente non l'ho mai utilizzato voi voi non lo so ci vediamo nei commenti voi che cosa vorreste che portassi che portassi ok allora mettiamo e questo cosa mettiamo allora vorremmo allora ah c'è tipo gli occhi allora poi con la redstone sempre gli occhi qua sempre gli occhi ok questo qua sembra gli occhi bianchi fa un po' paura però è carino poi vediamo questo allora ragazzi vi direi questo però questo è bello intrigante vi direi questo perché è carino poi qua sembra un angioletto dalla immagine che lo andiamo a mettere ok sembra proprio come se c'è gli occhi andiamo a buttare l'armatura quindi questo queste nuove armature e queste nuove skin sono le nuove cose di questo aggiornamento spero che il video vi sia piaciuto cioè si iscrivetevi e lasciate like e al prossimo video ciao 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 ciao